di un ragionamento molto più ampio. Avere un valutatore ben formato non significa che questo sia il risultato dei problemi, devo anche saperli, poterlo porre nelle condizioni di lavoro più idonee, vi dicevo prima la traverità usata come risposta a domande politiche di tecnico nostro uomo. In definitiva cosa possiamo fare? Dobbiamo accorre dei cambiamenti che non siano dettati non solo da criteri economici, abbiamo la necessità quindi del fatto che lo faccio solo se mi conviene, no economicamente, no non è così, dobbiamo fare delle azioni che vadano anche oltre quello che è il semplice criterio economico. La necessità di competizione per lavori qualificati, la definizione di precisi criteri gestionari e soprattutto, mi ricollego quello che dicevano i colleghi presenti e i presidenti, la necessità di creare una cultura diffusa in favore del paesaggio. Grazie per l'attenzione.